ed è la conoscenza di valori che hanno fatto grande questo paese, perché se Renzi adesso può andare in Europa e a voce alta rivendicare che all'Europa la linea sull'immigrazione l'ha dettata il nostro paese e l'ha dettata proprio attraverso i suoi gesti concreti di inclusione e non erano di buonismo, perché accogliere la vita che è in mare non è buonismo, è bontà allo stato puro ed è umanità ed è cultura e tradizione, lo può fare in virtù delle nostre radici. Quindi io spero e mi auguro che da questa sintesi, da questo just soli e lo just culture maturi davvero nel nostro paese una nuova fase di inclusione, di dialogo, ma anche di orgoglioso riconoscimento delle nostre radici. Grazie. Grazie a lei. È scritta a parlare l'onorevole Costantino, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. L'Italia purtroppo è un paese che in tema di diritti paga dei ritardi enormi, inaccettabili. Le classi dirigenti che si sono succedute in questi anni hanno preferito non affrontare alcune questioni, spesso perché controproducenti a fini elettorali, altre volte perché considerate non prioritarie. Infatti sta andando così per le unioni civili e abbiamo rischiato che andasse così sulla legge, sulla cittadinanza. La parte più arretrata e strumentale della politica istituzionale sbraita, come purtroppo abbiamo avuto modo di ascoltare in Commissione, dicendo che il Parlamento si dovrebbe occupare di ben altro, come per esempio del lavoro, come se le due questioni fossero in contrapposizione, come se la vita contasse meno, come se esistesse solo il diritto a lavorare e non quello a vivere un'esistenza riconosciuta. La parte che invece oggi ha dato il via a questo provvedimento è quella classe dirigente che evidentemente ne sente il bisogno, che ne fa una questione di cultura politica, che pensa che non se ne possa più fare almeno e che non è più il caso di rinviare un provvedimento necessario. E quindi eccoci qua a ragionare su un testo per noi necessario, io lo voglio dire in maniera chiara, visto che abbiamo votato a favore in Commissione il mandato relatore, che stancisce un diritto fondamentale per tante ragazze e tanti ragazzi che italiani lo sono e che solo la burocrazia non li ha definiti tali. Guardando a loro, soggetti direttamente coinvolti, ascoltando le associazioni e i movimenti che in questi anni li hanno accompagnati, primi fra tutti i promotori della campagna L'Italia sono anch'io, abbiamo prodotto una proposta di legge che ricalcava le esigenze, le esperienze e le storie che abbiamo imparato a conoscere. Purtroppo di quel testo pochi elementi sono stati accolti, alcuni non li abbiamo addirittura neanche potuti discutere perché sono stati completamente espulsi dal testo base. La parte relativa per esempio alla riduzione dei tempi per l'ottenimento della cittadinanza da parte degli adulti che regolarmente risiedono qui in Italia e che allo stato attuale impiegano dieci anni per diventare italiani non è stato minimamente preso in considerazione. I motivi si intuiscono facilmente, in questo provvedimento come in altri, la presenza del nuovo centrodestra riprende fiato. Poche cose le sono rimaste per differenziarsi dal Partito Democratico e non scomparire in maniera definitiva. L'arretratezza che si può mettere in campo in tema di diritti è occasione troppo ghiotta per farsela scappare. Il Partito Democratico, che con il nuovo centrodestra ci governa, ha cercato di mantenere la pace all'interno della propria maggioranza, provando a salvare capre cavoli. Ma, ai noi, arretrando su molti punti, il primo cedimento culturale è stato quello di decidere di occuparsi solo di minori, il secondo è stato lo jussoli temperato, il terzo uno jussoli colture che pone differenze tra minori, il quarto cedimento noi speriamo di non doverlo scoprire qui, in aula, quando ci ritroveremo ad affrontare le norme transitorie e quindi la retroattività di questo provvedimento. Qual è stato, in assoluto, l'errore più grave? Avere acconsentito che un bambino nato in Italia possa ottenere la cittadinanza solo se almeno uno dei genitori possiede la carta di soggiorno UE di lungo periodo. Lo ricordava anche l'onorevole Beni prima. Il testo base a cui noi, nonostante le perplessità già enunciate, ci siamo espressi con un voto favorevole, richiedeva solo che uno dei genitori avesse vissuto legalmente in Italia per cinque anni consecutivi. Perché? Perché noi non dobbiamo mai dimenticare chi è il soggetto di questa legge, cioè i bambini, non i loro genitori. Lo jussoli, che sia puro temperato, parla della semplificazione per i minori nati in Italia, legare la loro condizione a quella dei loro genitori in maniera così restrittiva significa svuotare in parte il segno e il senso di questo provvedimento. La richiesta di standard reddituali e abitativi taglia di netto un'affetta di queste generazioni. Noi, Parlamento, politica, abbiamo perso ancora una volta l'occasione di sancire un principio in maniera piena, completa. Sinistra Ecologia e Libertà aspetta da troppo tempo di dare risposta a quelle ragazze e a quei ragazzi che a volte parlano un dialetto migliore del nostro e conoscono la nostra cultura meglio di noi, perché a loro che hanno la pelle scura o gli occhi a mandorla è stato detto che dovevano fare di più affinché si determinasse un'integrazione formale più che sostanziale. Io spendo veramente pochi minuti in questo provvedimento perché era giusto concentrarsi più sugli aspetti negativi che a noi non stanno bene di questo provvedimento piuttosto che ritornare su quelle che invece sono state quelle che è stata la relazione che ci ha fornito l'onorevole Fabri in maniera puntuale. Però concludo dicendo che aspettiamo fiduciosi l'Aula per capire se ci saranno i margini per riprendere parte del testo, proprio questi aspetti che ho citato. Sicuramente speriamo che non venga addirittura peggiorato, visto che abbiamo lasciato e messo da parte un punto importante di questo provvedimento, che non era presente nel testo base ma che evidentemente eravamo chiamati a dover affrontare, a dover discutere, a dover decidere. Va bene fare, lo voglio ricordare, va bene fare, però ogni tanto proviamo a fare bene. Non viviamo l'assillo di dire che bisogna fare le riforme, che è necessario mandare avanti questo Paese, che basta poter enunciare un passo in avanti e non tentare invece di fare in modo che quel passo in avanti si possa compiere in maniera piena, consapevole, tenendo conto dei percorsi che sono stati fatti in questi anni. Perché se è vero che l'Italia su questo terreno ha tanti anni da dover recuperare, facciamo in modo che questi anni vengano recuperati in maniera giusta e non mettendo una stelletta in più a quello, diciamo, che il Governo ci ha messo di fronte in questi due anni e mezzo di legislatura. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Fitgera Nissoli. Grazie, Presidente. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, oggi è un bel giorno perché finalmente parliamo di cittadinanza in quest'Aula. Un argomento spinoso, ma la cui riforma non può attendere. La cittadinanza è il simbolo dell'aspirazione all'uguaglianza tra le persone. È un tema, la cittadinanza, che tocca profondamente l'animo umano, il sentirsi parte di una comunità. Quella che stiamo esaminando, quindi, è una riforma doverosa per quei minori stranieri che hanno provato il senso di appartenenza a questa comunità, ma allo stesso tempo è una sconfitta per altri che non sono stati presi in considerazione, e cioè quegli italiani che recatisi all'estero hanno perso la cittadinanza, ma che conservano nel cuore e nel modo di essere l'italianità. La loro è un'identità italiana piena, viva, che chiede di essere riconosciuta anche sul piano giuridico. L'Italia è un paese che ha vissuto nella sua storia.